Luigi Febbo resta per ora l'unico temibile competitor dell'attuale sindaco di Chieti. Umberto Di Primio ha ottenuto la coesione di tutto il centrodestra che converge sulla sua ricandidatura e oggi il Democratico spiega quali sono i punti salienti della sua critica alla gestione di Primio. Sicuramente quella di dare risposta ai cittadini, programmi veri e non slogan, quella che è stata fino ad ora. La città aspetta un sindaco che è capace di prendere decisioni e di ricercare di risolvere i problemi della città. Un'idea chiara anche sulle necessità di Chieti rispetto a quelle dell'area sottostante. Due vocazioni distinte da rivedere e modificare per rispondere alle necessità di commercio e turismo. A qualche mese dalle elezioni del nuovo sindaco iniziano gli incontri pubblici con cittadini e residenti per ottenere preferenza alle urne e rinsaldare rapporti di coesione e alleanza. I problemi sono tanti, l'accessibilità, l'accoglienza. Noi siamo una città, come dicevano poco fa in questa manifestazione della Voce, che è l'unico giornale teatino che è rimasto e che li ringrazio per l'attenzione che metto nella capabilità per portare avanti tutti i problemi della città. Come dicevo, i problemi sono tanti, sono quelli del centro storico che non riesce a vivere, a decollare nell'area metropolitana. Il nostro centro storico deve diventare il centro storico dell'area metropolitana perché ha tutte le caratteristiche e la qualità per farlo. Lo Scala ha un'altra vocazione, sicuramente quella più attrattiva, legata alle industrie vere che ci sono, che sono l'università e l'ospedale, che non vengono per niente messe in rete.